Nipotini state con noi perché adesso arriva un video con tante battute in cui Mirko Brunetti e Angelica Baraldi prendono in giro Marco Fortunati per delle scarpe, secondo loro orribili, vi lascio, sono in aeroporto, vanno in Sicilia e vi lascio. Via, gruppo vacanze, vamos, Sicili, via. Scusa ma che ci fai qua? Tu non dovresti essere in cabina di pilotaggio? No abbiamo fatto un cambio, a ritorno. Ah un guido a ritorno, quindi è andata a chi guida? Eh non lo so. Vabbè, vediamo. Scusa. Chi guida? Chi guida? Vabbè, ok. Ok. Mirko, direi qualcosa per favore. No, che direi. Mamma mia. Viene bene, entra in aereo, si piange comodo. Una persona così, una che non c'ha più niente da perdere, praticamente. Non sappiamo, non sappiamo il modello per cui non l'hanno fermato. Comunque, se avete 10 euro da darmi che mi comprovi, I potini a me non parevano scarpe così mostruose, sarà che perché io ho sempre dei look un po' tragici. Vi lascio, al prossimo video, ciao!